Ci sarebbe anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli fra gli indagati del filone bis scaturito dall'inchiesta su Coingas per questo secondo fronte che portò alla perquisizione nella sede di Estra nello scorso luglio da parte della Guardia di Finanza, sono stati notificati gli avvisi di proroga e indagine. Tutto nacque dal contenuto della lettera anonima ritrovata dalla Digos fra i file del computer di Sergio Stadirini, ex presidente di Coingas, lettera di cui lo stesso ex presidente ha parlato nel secondo interrogatorio reso di fronte al procuratore Roberto Rossi nel mese di dicembre. Anche Stadirini sarebbe tra gli indagati e sembra che proprio il suo interrogatorio abbia allargato le iscrizioni nel registro degli indagati a Ghinelli e Stadirini oltre a colui che era già indagato, Francesco Macri. La posizione del sindaco Ghinelli in questa vicenda che riguarda sostanzialmente i soldi spesi da Estra è ancora tutta da chiarire e soprattutto c'è da capire se le accuse mosse al primo cittadino sfoceranno in una richiesta di rinvio a giudizio o in un'archiviazione. Cautela è il termine più adatto per tutte le posizioni. L'udienza preliminare per il fascicolo madre invece è già stata fissata il 23 di marzo prossimo davanti al GUP Claudio Lara. Compariranno i 13 imputati tra cui lo stesso Ghinelli, il presidente di Estra Francesco Macri, l'assessore Alberto Merelli, Sergio Stadirini, ex amministratore di Coingas.